Giove Pluvio, un altro dei loro congegni. Sarà un rompicapo, ma è un'emergenza. Devo affrontarlo. Ma quanti schiavi usano per l'evacuazione corporale? Che disgrazia essere uno schiavo. Adesso capisco. È un papiro da leggere per passare il tempo. Dove sarà la spugna? Non è possibile. È un congegno per lavarsi. Ed è sicuramente molto più igienico delle nostre spugne. Giove Pluvio, sublime sensazione. Sono finito nell'Olimpo.